La mafia romana, un mafia capitale come è stata battezzata, è quel sistema di intrecci indissolubili tra mala politica, affari e criminalità organizzata che noi denunciamo in tutte le sedi competenti da anni e chiediamo a questo punto con forza la presidenza della Commissione Trasparenza del Comune di Roma perché siamo l'unica forza politica con le caratteristiche per poter gestire questo processo delicatissimo e dare finalmente trasparenza ai cittadini.